Torna davanti ai magistrati Salvatore Parolisi, il marito di Carmela Melania Rea, la mamma 29enne selvaggiamente uccisa con 35 coltellate. Scomparsa da Cole San Marco ad Ascoli il 18 aprile scorso e ritrovata senza vita due giorni dopo, in un bosco nel Terramano. Non convince il racconto di Parolisi, sono troppe le contraddizioni, soprattutto sui tempi, nella sua versione dei fatti sull'allontanamento della moglie. Indagini quindi sempre più serrate nel tentativo di ricostruire il fatidico pomeriggio del 18 aprile. Il lavoro investigativo non si è mai fermato e sono gli ultimi risvolti a indurre inquirenti e PM a rivalutare la posizione di Parolisi, caporal maggiore nel reggimento Piceno di Ascoli, e a ritornare con ostinazione su quanto accaduto sul pianoro. Parolisi era già stato sentito dall'investigatore Ascolani, però alla luce delle più recenti testimonianze sono emersi alcuni particolari che non tornano. Era stato proprio lui a dare l'allarme per primo quel pomeriggio e tutta l'indagine si è costruita infatti sul racconto fornito da Parolisi. Però più persone con le loro dichiarazioni hanno messo in dubbio la presenza effettiva della giovane mamma sul pianoro di Cole San Marco, luogo dove finora si presumeva fosse scomparsa. Nessuno ricorda di averla vista lì quel pomeriggio, eppure era una donna molto bella e appariscente. Sorgono i dubbi anche perché del marito si ricordano in tanti. Gli investigatori Ascolani vogliono ricostruire le ultime ore di vita di Melania, soprattutto ora di spostamenti, e lo faranno anche con l'aiuto dei carabinieri del ROS, che ieri sera sono arrivati ad Ascoli e hanno investigato vari tabulati telefonici. Per ora sembra messa in disparte la pista del mondo militare, dei rapporti anche molto personali, si era parlato di una recente amante, tra il caporal maggiore Parolisi e alcune delle giovani reclute sotto il suo commando. Contrariamente a quanto si era appreso ieri, gli investigatori non hanno ancora sentito alcuna soldatessa. Riservo totale da parte degli inquirenti, in attesa dei risultati degli esami del RIS, sugli oltre centro reperti raccolti sia sul pianoro di Cole San Marco, sia nel bosco delle casermette. Finché non sarà la scienza a portare qualche certezza, l'efferato assassino della giovane mamma rimane avvolto nel mistero più impenetrabile.